La questura ha istituito una zona rossa nel centro storico per vietare le manifestazioni annunciate domani pomeriggio in occasione della visita di Mario Monti in città. Anche il sindaco Mero l'avverte, chi fa danni dovrà pagare. CGL, Cisle e Will si dicono preoccupate per gli effetti negativi dei T-Days sulle attività economiche del centro e chiedono al comune di attuare correttivi alla discussa pedonalizzazione della T. Dal bilancio varato ieri in consiglio comunale al terremoto che seppure in modo attenuato ha colpito la nostra città, la nostra intervista al sindaco di Bologna, Virginio Merola, alla vigilia dell'incontro con il presidente Monti. Vertice in regione per la ricostruzione post-sisma, presente il capo della protezione civile Gabrielli, tra le priorità il recupero e la messa in sicurezza delle tante scuole lesionate dalle scosse di terremoto. Vasco Rossi mostra Palazzi Isolani fino al 15 luglio con Vasco.com, l'esposizione in 3D nell'ambito di Bebologna estate è interamente dedicata alla rock star e alle sue ultime fatiche artistiche. Buonasera dalla redazione di Etigi, lo avete sentito dai titoli, in apertura il terremoto e tutto ciò che ruota intorno all'emergenza sisma dopo una notte abbastanza tranquilla sul fronte dello sciame sismico alle 10.59 di questa mattina una nuova scossa di 3.6 a finale miglia nel Modenese, che questo ovviamente ha ricordato a tutti che la terra non è per nulla tranquilla. A Bologna noi siamo andati a vedere le crepe nella Basilica di San Petronio e di terremoto ci ha parlato anche il sindaco Virginio Merola. Di tutto questo parleremo nel nostro telegiornale, intanto però come avete sentito nei titoli domani sarà una giornata molto importante perché a Bologna arriverà il Premier Mario Monti, una visita ampiamente annunciata, tante le proteste annunciate sempre per domani, tanto che la Questura ha creato una sorta di zona rossa per evitare incidenti. Ma facciamo il punto con Massimo Ricci. Sarà un pomeriggio caldo, molto caldo domani a Bologna e non solo perché il termometro secondo l'ARPA toccherà i 31 gradi ma soprattutto perché in città arriverà il Premier Mario Monti. Il Presidente del Consiglio sarà ospite della Kermesso organizzata dal quotidiano La Repubblica e denominata La Repubblica delle Idee. Alle 16 arriverà l'Arena del Sole dove parlerà assieme ad Ezio Mauro e Eugenio Scalfari del futuro dell'Italia. Più tardi alle 17.30 il Premier Bocconiano si trasferirà presso la sede della Regione in Via Aldomoro dove è stato fissato un incontro con il Governatore Vasco Errani per parlare della situazione nelle zone terremotate. All'incontro parteciperà anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. Si diceva della temperatura alta, sì perché con l'arrivo del Premier in città sono state annunciate anche diverse manifestazioni di protesta pronti a scendere in piazza in particolari centri sociali, collettivi e i sindacati di base del CUB. Ma la Questura ha bloccato tutto imponendo il divieto di manifestare nell'area del centro di Bologna, compresa tra Via Altabella, Oberdan, Alessandrini, Irnerio, Mille, Marconi, Belvedere e Montegrappa. A chiedere il rispetto dell'ordine pubblico è anche il sindaco, Virginio Merola, che avverte che chi farà danni nel corso di manifestazioni contro il Premier Monti sarà identificato, come già avvenuto tramite le telecamere di sorveglianza, e costretto a pagare. I primi a rimetterci comunque saranno gli ambulanti della piazzola. Infatti dalle 12 le bancarelle di Via San Giuseppe e Indipendenza dovranno smobilitare. Breve nota a margine. Abbiamo notato che proprio davanti all'Arena del Sole il Comune ha attivato lavori di rifacimento pavimentazione del portico perché è sollevato e pericoloso per i pedoni. Il tutto a tutela della pubblica incolumità. Lavori urgenti per un provvidenziale maquillage che si concluderà, guarda caso, in tempo per la visita del Premier. E preoccupazione c'è anche per i T-Days, i weekend di pedonalizzazione della T. Adesso i sindacati confederali, CGL, Cisle, Will, chiedono una correzione al provvedimento che secondo loro sommato alla crisi economica crea problemi e non pochi alle attività del centro della città. Ancora Ricci. Pur ribadendo di non essere contrari ad una pedonalizzazione graduale del centro, i sindacati CGL, Cisle, Will, dopo un incontro con l'Associazione Commercianti, hanno espresso forte preoccupazione per gli effetti negativi sulle attività economiche del centro storico causati da questi primi T-Days e hanno affermato l'esigenza di considerare questa esperienza sperimentale al fine di valutare al più presto i risultati e attuare correttivi. Lo si legge in un documento congiunto dei sindacati confederali che così prendono nettamente posizione sulla pedonalizzazione della T. C'è la preoccupazione che non è avvenuta quel confronto fondamentale, confronto vero dico all'assessore, per permettere con gradualità di introdurre dei cambiamenti. Quindi bisogna fare delle sperimentazioni, bisogna stare molto attenti alle esigenze dei lavoratori che operano in quel settore, bisogna rivedere la questione dei trasporti, quindi dico ed è un appello aprire un tavolo vero dove si possono discutere questi aspetti. Perplessità su questi T-Days anche da parte della CGL. I T-Days che sono un fatto che noi abbiamo detto di condividere fin dall'inizio e che confermiamo di condividere rappresentano una scelta nuova per la città che ha manifestato anche diverse criticità. La prima di questa criticità è il modo con il quale le persone riescono ad arrivare in centro. Per persone naturalmente io penso in primo luogo ai lavoratori dipendenti che lavorano in centro, che hanno orari molto vari nel corso della giornata e hanno bisogno di poter arrivare nei luoghi di lavoro, ma questo vale anche per la fornitura dei negozi che in centro operano, quindi l'allestimento delle scorte normali. E poi questo riguarda l'utenza, chiamiamola così in senso lato. Tutto questo a nostro giudizio induce a svolgere un primo step di verifica su questa sperimentazione e si possano valutare gli elementi di criticità e di successo di quella sperimentazione per produrre gli aggiustamenti necessari. Mi pare una scelta responsabile e intelligente delle parti sociali che rappresenta una sollecitazione nei confronti del Comune che spero non venga lasciata cadere. Torniamo adesso sul terremoto perché anche il capoluogo emiliano è stato colpito dal sisma, anche se come sappiamo in misura nettamente minore rispetto ad altre località. Di questo ha parlato il sindaco di Bologna, Virginio Merola, in un'intervista realizzata dalla nostra emittente, intervista in cui il primo cittadino parla anche del bilancio 2012 che è stato varato proprio ieri dalla sua giunta. Allora sentiamo il primo cittadino al microfono di Francesco Spada. Partiamo intanto dal bilancio, si è arrivati a chiudere questo capitolo che sembrava diventare un po' faticoso specie in questo periodo e anche per scelte diciamo che erano state fatte da lei e dalla sua giunta. Sì, siamo arrivati, abbiamo provato il bilancio, è un fatto positivo, siamo riusciti a contenere il più possibile gli aumenti, è stato necessario il rinvio proprio per contenere gli aumenti, come ricorderete, siamo riusciti a evitare ulteriori aumenti per il comune e a mantenere l'aliquota per la prima casa al minimo. I cittadini devono sapere che questo è un contributo che andrà unicamente allo Stato, mentre sulle altre aliquote abbiamo cercato di non aumentare l'IRPEF per non colpire ulteriormente i redditi di lavoro. È un bilancio che permette di reggere in questa fase difficilissima i servizi scolastici e i servizi sociali sono salvaguardati, poi stiamo insistendo con il Governo e abbiamo ottenuto da questo punto di vista degli impegni seri per allentare il patto di stabilità in modo di poter avere spese per investimenti. La città, lo vedete tutti, ha bisogno di spendere le risorse che ha per creare occupazione, ma soprattutto per la manutenzione, la cura della città, a cominciare dagli edifici scolastici e dalle buche per le strade. Senta, ieri l'incontro col prefetto Gabrielli, col commissario straordinario Errani, sindaci di tutte le zone colpite, messaggi importanti, parole importanti perché in questo momento la gente chiede ricostruzioni in tempi rapidissimi. Ricostruire in tempi rapidissimi tenendo conto delle esperienze di altri terremoti, quindi senza predeterminare situazioni che poi ci lasciano le cose peggio di prima. Mi spiego, il provvisorio, e deve essere davvero provvisorio, la priorità resta ricostruire gli edifici esistenti in modo ordinato e in modo da ricreare la comunità. Quindi la priorità uno è essere tutti seri e i sindaci sono impegnati a chiedere le questioni che veramente attengono ai danni provocati dal terremoto, non approfittare di questa occasione per serietà, nello stesso tempo sveltire al massimo tutte le procedure e in questo senso l'impegno del commissario Erani è davvero lodevole. Senza scuole a Bologna alcune sono state chiuse in anticipo rispetto ai tempi, per alcune lesioni verranno riaperte tutte a settembre? Ecco, queste lesioni puntuali potranno rientrare nei contributi previsti per i provvedimenti sul terremoto. Noi in termini generali però vogliamo investire almeno un primo 4 milioni di euro per la sicurezza piena degli edifici scolastici, cioè rafforzare la sicurezza. Noi abbiamo avuto la fortuna di non essere colpiti direttamente dall'evento, però vogliamo a scopo di precauzione utilizzare quest'estate, in particolare per le scuole dei bambini e delle bambine, di mettere in sicurezza e lasciare all'altra comunità a tutti che è stato fatto tutto per prevenire. Intanto a Bologna si è tenuta la prima riunione del Comitato Istituzionale per la ricostruzione post-sism, a cui hanno partecipato tra gli altri il capo della protezione civile Franco Gabrielli e i sindaci dei comuni colpiti. 161 scuole saranno recuperabili entro settembre, così ha detto il Presidente della Regione Vasco Errani. Sentiamo. Priorità alle scuole, poi subito alle abitazioni per trovare una sistemazione degna alle persone che hanno la casa inagibile. Il Presidente della Regione Vasco Errani, in qualità di commissario delegato alla gestione della costruzione, ha sintetizzato così le decisioni della prima riunione del Comitato Istituzionale, composto dai sindaci e dai presidenti di provincia delle zone colpite dal sisma, che lo affiancherà nel governo del processo della ricostruzione. Abbiamo fatto questa prima riunione del Comitato Istituzionale, sapete che per me la funzione di commissario delegato è strettamente connessa alla funzione dei sindaci dei territori e delle province. La riunione è andata bene, abbiamo fatto alcune priorità, prima di tutto il tema delle scuole per attivare le scuole anche in relazione ai danni, quelle che sono attivabili entro in sicurezza naturalmente, entro l'apertura del nuovo anno scolastico. Sono 161 le scuole da mettere in sicurezza in modo da garantire l'apertura a settembre con l'inizio del nuovo anno scolastico, mentre si stanno completando le verifiche sugli altri edifici scolastici rimasti gravemente danneggiati per poter programmare i moduli provvisori laddove necessari. Nei prossimi giorni a Spiegaterrani firmerò un atto per consentire ai sindaci e alle province di attivare subito i lavori. Intento, ha aggiunto il presidente, stiamo accelerando le verifiche sulle case per avere un quadro il più vicino possibile al dato definitivo, procedere alla definizione delle percentuali di riconoscimento dei danni ai cittadini e trovare una sistemazione adeguata per chi potrà rientrare in casa solo in tempi medio-lunghi. Le soluzioni saranno articolate, ho detto Errani, anche in relazione alle condizioni dei diversi comuni e delle esigenze dei cittadini. Il presidente ha inoltre ricordato l'accordo firmato con le banche per sostenere il credito e gli investimenti delle imprese. È aggiunto che si sta lavorando per ottenere crediti super agevolati che permettano alle famiglie di avviare i lavori nelle proprie abitazioni. Già nei prossimi giorni saranno definiti programma e linee strategiche delle prossime settimane. Intanto sono diverse le strutture a Bologna colpite dal sisma. Tra queste molte chiese non è stata risparmiata neppure la Basilica di San Petronio in cui si sono aperte delle crepe che noi oggi siamo andati a documentare con le nostre telecamere. Proprio di questo argomento Francesco Spada ha parlato con Don Mirko Corsini che è il delegato della Curia alle chiese terremotate. Don Mirko Corsini ha anche una delega in questo momento molto delicata che riguarda proprio le chiese colpite dal sisma. Abbiamo visto tante chiese nella provincia ma anche in centro storico a Bologna a partire da San Petronio e San Pietro sono chiuse? Sì, sono chiuse in via precauzionale quindi da quello che sappiamo, da quello che abbiamo rilevato noi, non c'è niente di strutturale che possa preoccupare lo stato di questi edifici. Si è ritenuto opportuno e si ritiene opportuno che almeno ad un mese dall'ultimo evento sismico che ha preoccupato tutti le chiese stiano chiuse. Intanto stiamo facendo dei controlli e siamo già attivati su questo. Ed è un po' l'indicazione che diamo a tutte le chiese che in un qualche modo sono nel territorio colpito dal sisma o che in città hanno presentato questi segnali. Cioè se c'è anche un'ipotesi di, dico così, pericolo inteso come gestione anche solo del panico, ecco in caso ci fosse un altro sisma è opportuno e bene che l'edificio sia chiuso senza creare eccessivi alarmismi. Cioè per quello che mi risulta in città non abbiamo niente di strutturale ai nostri edifici che ci possa, diciamo così, mettere in apprensione. Le chiese che sono state lesionate sono, i dati che abbiamo oggi ma sono poi al 12 di giugno, ci sei qualche modifica ma veramente di poco conto, sono chiese parrocchiali 91 di cui per esempio nella città di Bologna ne abbiamo 5. Chiese non parrocchiali sono 57 nel complessivo e così anche nella città di Bologna. Campanili sono 34, capite però che tutti questi sono dati che presentano tutti i danni rilevati. Quindi qui non si sta dicendo che è una situazione 91 chiese, 91 chiese messe male. Si sta dicendo che hanno manifestato dei danni, delle lesioni. Dove c'è poca chiaramente carità o non c'è problema per l'agibilità le chiese sono aperte. Dove invece o in via precauzionale o ci sono stati chiaramente dei danni, le chiese ovviamente non sono agibili. Questo è un po' il numero complessivo. Gli edifici di proprietà ecclesiastica colpiti da questo terremoto in tutta la diocesi al momento sono 279. E sul danno al patrimonio architettonico e culturale in particolare, ai luoghi di culto, il parlamentare del PDL Fabio Garagnani ha avviato una iniziativa finalizzata a ottenere aiuti e dunque fondi. Sentiamo. Sull'esempio di quanto è avvenuto la settimana scorsa in Commissione di Attività Produttive dove abbiamo audito le organizzazioni economiche dei territori purtroppo oggetti del terremoto, io ho chiesto alla Presidente della Commissione con una lettera A e ai componenti della Commissione ma soprattutto alla Presidente di fare un'audizione della Commissione parlamentare Cultura per verificare con i responsabili dei beni culturali e territoriali dello Stato e con le autorità ecclesiastiche, con loro delegato, la situazione delle chiese disastrate, danneggiate o distrutte dal terremoto. In particolare sono coinvolte le diocesi dell'Emilia Romagna e più quella di Mantova e per quanto riguarda la nostra città Bologna io mi sono preoccupato di verificare la situazione delle 50 chiese circa gravemente lesionate, a cominciare da Santa Maria Maggiore in Galliera e San Petronio che è l'identità bolognese. Su San Petronio ho chiesto anche un'indagine supplementare e un intervento aggiuntivo del Governo della Protezione Civile stante l'importanza che ha San Petronio per la nostra storia e per la nostra identità anche a livello nazionale. Spero in questa audizione verranno censiti tutti gli enti ecclesiastici ma soprattutto le chiese che sono state lesionate che più che meno per avere un'idea completa della situazione e poi indubbiamente discutere gli eventuali finanziamenti. E in seguito al sisma gli sfollati assistiti dalla Protezione Civile sono ben 15.902 distribuiti in tende e anche però in alberghi e strutture al coperto. I dettagli. Sono quasi 16.000 le persone assistite dal Sistema Nazionale di Protezione Civile tra Emilia, Romagna, Lombardia e Veneto, le tre regioni colpite dal terremoto. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile gli sfollati sono suddivisi in 46 campi di accoglienza, 63 strutture al coperto tra scuole, palestre, caserme, vagoni letto messi a disposizione da Ferrovie dello Stato e Genio Ferrovieri e negli alberghi che hanno offerto la loro disponibilità grazie alla convenzione siglata con federalberghi e ass hotel. In particolare in regione i cittadini assistiti sono 14.819, 9.878 ospitati in 36 campi tende, 2.900 in 51 strutture al coperto e 2.932 in albergo. In Lombardia invece risultano assistite 1.068 persone delle quali 960 sono ospitate all'interno dei 10 campi allestiti della provincia di Mantua, mentre 109 hanno trovato sistemazione in 11 strutture al coperto. In Veneto infine nell'unica struttura al coperto allestita nella provincia di Rovigo sono accolte 15 persone. In previsione della stagione estiva e del conseguente aumento delle temperature sono già stati messi a disposizione dei campi di accoglienza 1.230 climatizzatori, il cui numero già da oggi salirà, dice la Protezione Civile, per coprire tutte le richieste al momento pervenute. E siamo alla politica, il consigliere regionale del PDL Galeazzo Bignami prende spunto dal dibattito in corso nelle PD e chiede che anche nel suo partito si svolgano le primarie. Di questo Bignami ha parlato oggi nel corso della nostra rassegna stampa. Sentiamo le sue parole. Noi qualsiasi strumento sia utile a selezionare la classe dirigente dal basso, vale a dire dal territorio, dando la possibilità ai cittadini di individuare chi deve rappresentarli in Parlamento, lo accogliamo con favore. Dico noi perché all'interno del PDL non tutti la pensano così e probabilmente la pensano così soprattutto l'ala generazionalmente più giovane, benché non si debba fare un ragionamento di rottura generazionale fino a se stessa. È per questo che anche nei giorni scorsi abbiamo lanciato un'iniziativa finalizzata proprio a premiare merito e territorio che secondo noi sono i due antidoti di cui il PDL deve servirsi per rilanciare un po' non tanto se stesso, non ci interessa lo strumento partito come fine, quanto le soluzioni che ritiene di poter adottare per rimettere un po' a posto le cose. Sempre tornando sulle primarie, Berselli dice sul Corriere di Bologna Io sono favorevole in generale alle primarie ma nel nostro partito decide Roma quindi senza una decisione nazionale non si fa niente, ripeto è prematuro parlarne. Ecco il nostro partito decide Roma dice Berselli ma nel PDL non ha deciso troppo Roma finora? Sì è un eufemismo il suo perché in realtà Roma ha sempre combinato dei guai quando si è interessata a Bologna a partire dalle non candidature a sindaco, a partire dalle scelte pre e post congressuali, le decisioni sulla politica nazionale che ha generato soltanto dei problemi, io credo che Roma debba farci una cortevia visto che ha sempre bistrattato Bologna trattandola come una periferia dell'impero, io sarei grato ai nostri amici a Roma se facessero finta che Bologna non esistesse perché a risolvere, a crearci dei problemi credo che siamo capaci da soli come purtroppo abbiamo dimostrato anche nell'ultima vicenda del commissariamento vogliamo provarne a risolvere un po' da soli e quindi la richiesta che avanziamo nei confronti di Roma è lasciar decidere il territorio. Incidente in moto oggi per il senatore del PDL Filippo Berselli ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna in medicina d'urgenza in condizioni comunque non gravi e dove passerà la notte. Verso le 13 il presidente della commissione giustizia di Palazzo Madama oltre che coordinatore del partito in Emilia Romagna è rimasto coinvolto in uno scontro con un'altra moto e un furgone all'angolo tra via di Pisis e via Le Togliatti alla periferia della città. Per il senatore Filippo Berselli un trauma facciale e alcuni punti al volto lievemente ferito anche l'altro motociclista. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità poi di nuovo in studio con altre notizie. Di nuovo in studio prima di proseguire andiamo a rivedere i titoli principali di oggi l'apertura dedicata alla visita di Monti in città. La questura ha istituito una zona rossa nel centro storico per vietare manifestazioni annunciate domani pomeriggio in occasione della visita del premier. Anche il sindaco Mero l'avverte chi fa danni dovrà pagare. CGL, CISL e Will si dicono preoccupati per gli effetti negativi dei T-Days sulle attività economiche del centro e chiedono al comune di attuare correttivi alla discussa pedonalizzazione della T. Dal bilancio varato ieri in consiglio comunale al terremoto che seppur in modo attenuato ha colpito la nostra città. La nostra intervista al sindaco di Bologna e Virginio Merola alla vigilia dell'incontro con il presidente Monti. Vertice in regione per la ricostruzione post-sisma presente il capo della protezione civile Gabrielli tra le priorità il recupero e la messa in sicurezza delle tante scuole lesionate dalle scosse di terremoto. Vasco Rossi mostra Palazzo Isolani fino al 15 luglio con Vasco.com l'esposizione in 3D nell'ambito di Bebolo ogni estate interamente dedicata alla rockstar e alle sue ultime fatiche artistiche. Ripartiamo proprio da Vasco Rossi e da questa mostra in 3D allestita Palazzo Isolani fino al 15 luglio dove si potranno vedere alcune particolarità relative ai suoi ultimi lavori. Cristina Carisi Un'estensione di 800 metri quadrati, uno degli edifici storici più antichi e prestigiosi del centro di Bologna, Palazzo Isolani. È questa la suggestiva location di Vasco.com, la mostra in 3D dedicata a Vasco Rossi e ai suoi ultimi lavori. Patrocinata dal comune di Bologna, la mostra fa parte del programma di Bologna Estate 2012. Ideata e realizzata da Arturo Bertusi per Chiaroscuro, è uno dei grandi eventi dell'estate bolognese. Le fotografie sono di Roberto Villani, storico fotografo ufficiale dei live di Vasco, e di Gianluca Simoni, autore degli scatti delle copertine più recenti. Si tratta della prima mostra in 3D di una rockstar, un percorso multimediale con oltre 200 immagini d'autore tridimensionali, tratte da vivere o niente, tour e album, video proiettate in alta definizione. In mostra anche diverse rarità, testi e manoscritti originali, abiti di scena, strumenti e oggetti simbolo di Vasco Rossi. Nella sala cinema proiezioni dei concerti storici, documentari, interviste e una rassegna di videoclip. Per tutti la divertente possibilità di farsi una foto con Vasco, o quasi. Per tutta la durata della mostra, ogni sabato sera, notti rossi. L'appuntamento è nel cortile della mostra per sei serate speciali. Con persone vicino a Vasco e al suo mondo, è cinema all'aperto, con filmati inediti o mai pubblicati e anteprime come il documentario del tour europeo. Vasco.com, la mostra in 3D, è a Palazzo Isolani, in via Santo Stefano 16, fino al 15 luglio. Intanto, oltre 30.000 biglietti sono già venduti per il concerto per l'Emilia, dunque a favore dei terremotati, previsto per lunedì 25 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, in sostegno alle popolazioni colpite dal sisma. Il biglietto costa 30 euro, con scelta del settore dell'acquisto, Prato, Distinti o Curva. I ticket sono acquistabili su Ticket One, Booking Show, Carta Viva Ticket, Get Ticket, che hanno rinunciato alle commissioni e nelle filiali Unicredite. Cambiamo argomento, l'energia che cambia Bologna è il titolo di una tavola rotonda che si è tenuta proprio oggi in città, a confronto amministratori pubblici, ma anche rappresentanti di associazioni e imprese. È andato per noi Francesco Spada. L'energia che cambia Bologna è il convegno voluto fortemente da Compartigianato, da Unifica, da altre realtà. E con Giuseppe Cremonesi, neoeletto segretario di Compartigianato, c'è un'energia che può cambiare questa città? Sì, l'energia c'è. Tocca a noi, in una straordinaria alleanza tra pubblico e privato, farla partire. Credo che le possibilità ci siano. Lo stesso periodo di crisi, paradossalmente, favorisce questo sguardo al futuro. Il convegno che noi facciamo oggi è di straordinaria attualità, non siamo più nella condizione di dire che è una possibilità. Oggi questi temi dell'energia sono una straordinaria necessità per il futuro. Maurizio Persiani, vice direttore di Unifica, l'energia è un tema ovviamente importante, siamo anche in un momento di crisi, però diceva Cremonesi potrebbe essere quasi un momento propizio? Sì, è una sfida che bisogna accettare perché le nuove costruzioni sappiamo che languano ormai da anni e anni. Bisogna intervenire sulla riqualificazione dell'edilizia residenziale e dell'edilizia pubblica. Riqualificazione vuol dire ovviamente anche la messa in campo di tutta una serie di sapere, di energie, di strutture che il nostro consorzio ritiene e di poter giocare a tutto campo e di utilizzare al meglio. Il risparmio energetico vuol dire interventi sugli infissi, interventi sui cappotti, vuol dire anche le energie pulite, il fotovoltaico, un segmento nel quale noi siamo leader, una serie di attività in questo comparto nel quale riteniamo che il nostro consorzio le possa giocare, si possa proporre da protagonista. Restiamo sul tema dell'energia, Cofeli, Luca Fresi, energia pubblica amministrazione, qualcosa che deve funzionare meglio come rapporto? Direi sicuramente sì. La mia azienda, Cofeli, opera da molti anni nel settore dell'energia proprio applicata alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione ha un parco di edifici, di ospedali, eccetera, che vanno gestiti nel migliore dei modi. L'energia è uno degli aspetti principali perché per dare confort alle persone, ai degenti o a tutti gli utenti e noi siamo in grado di soddisfare tutti questi utenti consumando meno energia e nel rispetto dell'ambiente, che penso che sia uno degli obiettivi principali di questo convegno e quindi noi vogliamo esserci ed essere protagonisti. Adesso parliamo anche della nostra programmazione di legalità e sicurezza nei cantieri, stimolare il rilancio delle edilizie e delle costruzioni e utilizzare la tecnologia per aumentare i livelli di sicurezza e legalità nel lavoro dei cantieri. E' questo l'obiettivo di un accordo sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, INAIL, il primo del genere in Italia, che offre concreti vantaggi alle imprese che introdurranno nei cantieri il sistema elettronico di controllo degli accessi Repac, il registratore delle presenze autorizzate. Si parla di questo a vista da vicino. Il magazine televisivo della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e non da dopo il nostro telegiornale con l'assessore regionale dell'attività produttiva Giancarlo Muzzarelli, interviste anche al Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri e al Presidente della Regione Vasquerrani sul protocollo d'intesa che introduce disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile. Ancora una pausa pubblicitaria. Di nuovo in studio non ci sono aggiornamenti, dunque andiamo a rivedere i titoli principali di oggi la visita di Monti. In apertura del nostro telegiornale la Questura ha istituito una zona rossa nel centro storico per vietare le manifestazioni annunciate domani pomeriggio in occasione della visita del Premier in città. Anche il sindaco Mero l'avverte chi fa danni dovrà pagare. CGL, Cisle e Will si dicono preoccupati per gli effetti negativi dei T-Days sulle attività economiche del centro e chiedono al Comune di attuare correttivi alla discusa pedonalizzazione della T. Dal bilancio varato ieri in Consiglio Comunale al terremoto che seppur in modo attenuato ha colpito la nostra città, a ITG abbiamo sentito l'intervista al sindaco di Bologna Virginio Merola alla vigilia dell'incontro con il Presidente Monti. Vertici in regione per la ricostruzione post-sisma presente il capo della protezione civile Gabrielli tra le priorità il recupero e la messa in sicurezza delle tante scuole lesionate dalle scosse di terremoto. Vasco Rossi in mostra a Palazzo Isolani fino al 15 luglio con Vasco.com e l'esposizione in 3D nell'ambito di Bebolo ogni estate interamente dedicata alla Rockstar e alle sue ultime fatiche artistiche. E con la mostra su Vasco Rossi si chiude il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.